Poca alternanza tra le tre bellunesi e molti turni infrasettimanali e l'incognita di una stagione che dovrà a giocoforza convivere con l'emergenza Covid-19. La nuova Serie D inizierà domenica con ben tre trasferte per le nostre squadre. Il Belluno comincerà ad Este, l'Union Feltre a Porto Tolle e il neopromosso San Giorgio Sedico a Chions. Il debutto casalingo avverrà il 4 ottobre anche se le sfide potrebbero essere anticipate al sabato in previsione del successivo turno infrasettimanale. L'Union Feltre ospiterà il Charlins Muzzane, il San Giorgio Sedico e il Campo d'Arsego e il Belluno Lambrosiana. Primo derby alla quarta giornata domenica 11 ottobre con Union Feltre e Belluno. Alla sesta si troveranno di fronte San Giorgio Sedico e Belluno, mentre sarà in infrasettimanale sia all'andata sia al ritorno San Giorgio Sedico-Union Feltre con l'andata prevista mercoledì 4 novembre e il ritorno a fine febbraio. Ben 7 i mercoledì in campo, il 7 ottobre e il 4 novembre, il 2 e 23 dicembre, il 6 e 27 gennaio ed il 24 febbraio, a cui aggiungere il consueto turno del giovedì pasquale, il primo aprile. L'ultima giornata della stagione è in programma il 16 maggio, nella speranza di arrivare a cui la data, senza alcun intoppo.